Buongiorno a tutti, vediamo un po' dove siamo, ah allora Sarentilla esiste, però è bello cazzo C'è qualcuno? No ci sono io, allora ci sono circa 5 gradi penso, ci sono mai ricordi ma il posto effettivamente merita, di notte era tremendo, sembrava un posto fantasma, lo è ancora in realtà questo posto fantasma perché siamo gli unici ad abitare qui dentro, devo dire che ha fatto un certo effetto questa notte abbiamo dormito senza niente, senza lenzuola, senza cuscini, niente, niente, però è stata una bella esperienza ci vediamo presto, ciao Benvenuti al lago di Landro, un giorno ragazzi, un giorno 3 carro, sempre più caro Seguardo alla prossima guarda allora è era ok no no non è ok perchè non possiamo mettere ilettura prima volta ora ora vediamo 3 ore ecco gyro ecco dopo ch Sì 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 I like to teach but I have my limits Elephant dancing is a pretty good gimmick I looked at my watch it was getting late It was about time to open the gate People came in to see the show Someone said hey look That's Maceo I said can I have your attention please These elephants are about to dance you down to your knees They bumped and grind and swayed all day Started thinking about After the show hey I said come on it's not time to eat We got to get the crowd up off their feet We got to keep going for a while yet Gotta help the owner out of debt I said anyway after this There's another show And again same elephant same toe I Elephant stepped on my foot 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 I know what I'll do I'll feed up some of this 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 I'll feed up some of this